La proiezione internazionale delle imprese italiane è un punto di forza del Paese. Per questo la Farnesina, con la sua rete diplomatica rimodellata in funzione dei mercati emergenti, è al fianco delle reti d'impresa, un nuovo modello di collaborazione che consente alle PMI, nel rispetto dell'autonomia imprenditoriale, di realizzare progetti condivisi e lavorare insieme per incrementare capacità innovativa e competitività all'estero. Il convegno dal titolo Il Sistema Paese per l'internazionalizzazione delle reti d'impresa, organizzato l'11 maggio dal Ministero degli Esteri in collaborazione con Reti Impresa Confindustria, è stato un momento di confronto concreto e operativo per rillustrare ad un pubblico di imprenditori gli strumenti a sostegno di questo percorso. L'obiettivo, come sapete, è aumentare le nostre esportazioni fino a 50 miliardi e accrescere gli investimenti esteri di 20 miliardi di dollari entro il triennio, attraverso una serie di azioni mirate e di interventi sui mercati chiave. Noi abbiamo parato un piano straordinario per il Made in Italy che mette in campo per quest'anno 260 milioni di euro. Le reti d'impresa sono la risposta più efficace e moderna perché svincolano anche dal luogo fisico del distretto. Vuol dire che la logica diventa quella della Global or Italian Value Chain. Quest'anno è l'anno per fare questo lavoro perché i risultati possono arrivare. Io credo che quest'anno possiamo fare più 4,5% di export. È alla nostra portata. C'è da parte nostra anche una continua attenzione alle aree del mondo dove le economie sono più performanti, dove gli interessi delle imprese possono essere meglio serviti attraverso una nostra presenza più robusta, più efficace. Quindi una rete che amministriamo non in maniera statica ma al contrario in maniera dinamica. Questo è una delle caratteristiche forti del nostro paese, si potrebbe dire del nostro soft power, della capacità dell'Italia di fare l'Italia e io sono convinto che come istituzioni faremo del nostro meglio nei prossimi anni per lavorare in questa direzione liberando l'energia delle imprese con chiarezza e determinazione.